Oggi parliamo della rete di Campania Amica in Toscana. Mille imprese agricole accreditate alla rete con punto vendita aziendale, 40 mercati a filiera corta, tre mercati coperti, agriturismi, fattorie didattiche, fattorie sociali. Questa è la rete Campania Amica in Toscana, prodotti e servizi richiesti e apprezzati dai consumatori italiani e stranieri. Campania Amica è la rete che fa bene alle aziende agricole. Far parte della rete di Campania Amica significa anche continua formazione, crescita, sviluppo, perfezionamento delle competenze digitali al fine di promuovere i propri prodotti e la propria immagine. All'interno degli uffici di tutta la Coldiretti Toscana potrai trovare assistenza tecnica, fiscale, previdenziale, assistenza formativa. L'obiettivo della rete Coldiretti Campania Amica è aumentare la reddittività delle proprie imprese attraverso anche la diversificazione delle produzioni e delle attività agricole. L'agriturismo è il simbolo per eccellenza di una proficua diversificazione delle attività agricole. Ne abbiamo fatto un fiore all'occhiello in Toscana e siamo conosciuti in tutto il mondo per il turismo sostenibile, manutenzione, tutela del territorio, biodiversità, valorizzazione delle produzioni e delle tradizioni locali. Gli agriturismi da un anno a questa parte soffrono le conseguenze della pandemia. La mancanza di turisti italiani e stranieri ha rallentato moltissimo le loro attività. Campania Amica e Terra Nostra in questo anno sono state a fianco delle istituzioni per trovare delle soluzioni, per proporre delle soluzioni che potessero dare un adeguato ristoro alle nostre aziende. Al contempo siamo stati vicini alle imprese agricole e agrituristiche per fornire assistenza al fine di poter accedere a questi contributi e ristori previsti dalle normative. Siamo pronti per ripartire. Coldiretti, Campania Amica e Terra Nostra sono al fianco delle imprese agricole e agrituristiche per consentire loro di tornare a fare ciò che hanno sempre fatto, accogliere il turista negli splendidi paesaggi della Toscana, offrire loro piatti e cibi della tradizione culinaria contadina, accudire gli ospiti. Al prossimo episodio